Sono diversi stili, dipende come mi sento, dipende dalla situazione, dall'occasione, insomma, però più forse casual pensato bene, nel senso non proprio casual così, casual pensato, casual ho studiato, mi piace essere comoda e stilosa. La cosa più difficile per me è organizzare fra i bambini e i lucchi e tutto quello, sembra una roba molto frivola qua, però ormai è diventato per tante persone anche un lavoro serio. Io disegnavo fin da bambina, mi disegnavo i miei modellini, sì, anziché studiare greco-latino studiavo la moda. Mi diverte tanto giocare, credo che le donne debbano sempre osare, proprio è quella la bellezza che abbiamo, anzi Fran le invidia tantissimo, dice ma voi donne potete veramente spaziare, potete essere sempre delle donne diverse, questo uomini ci cattura e ci stupisce al contempo. Grazie a tutti, grazie a tutti.